Vistel è a superarlo, 2-0 non basta però al Partizan si qualifica il videotonne e siamo a Colonia dove il Colonia ha battuto lo Spartak Mosca per 2-0 rovesciandolo 0-1 iniziale, ecco l'azione del primo gol, al 24esimo Bain batte per la prima volta il portiere sovietico Dazayev, considerato uno dei migliori portieri del mondo ed eccoci al trentesimo del secondo tempo il gol decisivo di Litbarski, Pier Litbarski sul calcio di punizione e quindi il Colonia supera lo Spartak Mosca che è la prima squadra sovietica ad essere eliminata in queste partite di Coppa